All'inizio della settimana prossima l'assessore regionale ai trasporti per Paolo Nagni incontrerà i primi cittadini di Casacalenda Termoli e Larino riguardo la paventata cancellazione di alcune corse di treni da Termoli a Campobasso proposte da Trenitalia alla regione Molise a partire fra pochi giorni. Nagni ha evidenziato che da parte dell'amministrazione regionale c'è piena disponibilità a trovare soluzioni per garantire il miglior servizio possibile all'utenza, per opere di manutenzione la linea ferroviaria in questione è temporaneamente sospesa e il numero delle corse effettuate dagli autopulse sostitutivi è stato ridimensionato poiché sproporzionato rispetto all'utenza. Il tutto senza dimenticare la sovrapposizione che sussiste nelle stesse tratte dei pullman Sati, Langiano, Lancieri, Silvestri e Calzolaro diventa preciso obbligo avviare perciò una riflessione che miri alla riqualificazione dell'offerta dei trasporti su rotaie, aggiunge l'assessore Nagni, impostato su logiche che determinino sia un gradimento dei servizi sia una utilizzazione equilibrata delle finanze pubbliche. Sulla linea Campobasso Termoli oggi lavorano 41 coppie di corse sommando il trasporto su ferro e quello su gomma. Molte di queste corse si muovono però su una media inferiore ai dieci passeggeri quindi dinanzi a questa situazione appare doveroso reimpostare il servizio tenendo presente qualità per i passeggeri pendolari ma anche la gestione delle risorse economiche. Il governo della regione perciò avvierà presto le procedure di gara per l'affidamento del servizio di trasporto autobus e la conclusione della trattativa per cancellare i debiti pregressi con Trenitalia. Due momenti, conclude Nagni, per guardare un progetto di crescita della rete di trasporti possibile in Molise.